Musica Elezioni amministrative 2014 per il Comune di Bova Marina, siamo qui con Carmelina Faenza, lista numero 1, cambiare si può. Numero 1 ovviamente per il sorteggio, ma c'è da dire anche numero 1 perché siete partiti molto in anticipo rispetto agli altri, sono quasi due anni se non mi sbaglio che lavorate a questo programma elettorale, anche se la lista alla fine come sempre si conclude all'ultimo, per un percorso che parte da internet, parte dall'incontro con i cittadini da molto tempo. Sì, buonasera, è tanto che lavoriamo, è almeno due anni che lavoriamo su questo programma, su questo progetto, è nato già due anni fa quando si doveva votare, appunto, prima che arrivassero i commissari, prima dello scioglimento del Comune. E quindi da quel momento in poi il nostro gruppo è cresciuto e abbiamo elaborato un programma man mano condiviso da molti cittadini, un programma, diciamo, realizzabile, anche tenendo conto delle difficoltà economiche del Comune, però, tutto sommato, con l'apporto e con l'appoggio di associazioni, con delle operazioni particolari, anche di straordinaria importanza, anche di straordinaria amministrazione, riusciremo sicuramente a risalire la china e riusciremo a far sì che il popolo di Bova Marina non debba sostenere da solo il peso di questo dissesto. Dissesto che, ovviamente, per l'amministrazione che avverrà, richiederà il massimo della trasparenza possibile, che è poi uno dei punti cardine del suo programma, assieme all'occupazione. Sì, infatti la finalità, cioè la base di partenza di ogni nostra azione sarà sicuramente la trasparenza. sarà fondamentale accedere al sito online del nostro ente e ogni cittadino deve riuscire ad avere, con molta semplicità, con molta facilità, l'idea di ogni lavoro pubblico che ha avviato e quindi cliccare sul lavoro pubblico e vedere il finanziamento, vedere lo stato di avanzamento dei lavori, vedere a che punto e di quanto, quali somme sono state spese per ogni finanziamento. Io credo che per poter riavere un minimo di fiducia dei cittadini verso l'amministrazione, devono avere sempre contentezza di come gli amministratori vadano a gestire i loro soldi e quindi la trasparenza è la base di ogni nostra azione. È normale che in tutti i consigli comunali, che tutte le giunte, eccetera, ci sia all'interno, credo, insomma, è importante, gli organi di stampa, eccetera, perché possa trasparire ogni delibera, ogni atto amministrativo, perché per 30 anni si è gestito il comune come qualcosa di chiuso, mentre in realtà è importante che i cittadini partecipino alla vita amministrativa, quindi i consigli e le giunte devono essere a parte al pubblico. E quindi è lecito chiedere trasparenza e le faccio quindi questa domanda. Noi stiamo uscendo da più ormai di due anni di commissariamento antimafia, a causa anche, poi vabbè, è stato dichiarato il dissesto finanziario, a causa anche di questo dissesto finanziario creato nel corso degli anni dalle precedenti amministrazioni, ma l'ultima amministrazione, quella sciolta per mafia, che ruolo ha avuto e che peso ha arrivare comunque per un amministratore dopo un scioglimento per mafia. Non si può governare come si faceva una volta, magari in maniera molto allegra, se si può dire, ma bisogna stare molto attenti. Sicuramente deve esserci un'attenzione particolare per tutto quello che si va a fare. La mia lista deve, e quello che ho sempre detto, rispettare al massimo la normativa. La legalità dovrà essere alla base di ogni azione amministrativa. È fondamentale rispettare le norme, soprattutto il testo unico degli enti locali. Ed è fondamentale, pertanto, lavorare in sinergia anche con le forze di polizia. Quindi praticamente chiederemo l'appoggio, l'aiuto, voglio dire, di tutti quelli che sono gli organi di polizia, i vigili, ma anche praticamente i carabinieri, la stazione di melito della polizia di Stato, la guardia di finanza. Perché assieme si faccia un percorso di trasparenza e gli uni sostenuti dagli altri riusciamo ad arrivare a una gestione limpida e pulita. Sicuramente ogni amministrazione che si è avuto, ha avuto il suo peso, tanto nel dissesso quanto praticamente in tutti gli atti che si sono verificati. Noi risentiamo di 30 anni di una gestione poco attenta, poco oculata, poco rispettosa della normativa. Quindi è il momento, appunto come dico sempre, è il momento di cambiare e sono convinta che cambiare si può. Cambiare si può anche per quanto riguarda la scuola, una scuola che attende, soprattutto quella elementare, attende di rivedere una rinascita. Ci sono dei fondi stanziati, i lavori partiranno a breve e per quanto riguarda il resto delle scuole, nel senso ci sono anche problemi, lo sentivo anche nel suo ultimo comizio, per esempio per quanto riguarda le scuole superiori che sono confinate molto lontano dalla città e questo crea anche una lontananza degli studenti e uno sparire mano a mano dell'indotto. Il commercio è un altro punto molto importante del suo programma e quindi ricreare questo indotto commerciale affinché possa rinascere l'economia della città. La scuola deve essere il punto di partenza di ogni società. Noi andiamo a formare ragazze attraverso la scuola, è importante valorizzarla e lavorare in sinergia con quelle che sono le istituzioni scolastiche. E' importante, noi abbiamo delle strutture che vantavamo da vent'anni, da trent'anni, le più importanti della zona, della macroarea grecanica e adesso sono praticamente rilegate a fare da generentola del comprensorio. Non è giusto, mi ricordo che da ragazzina alle scuole medie avevamo una palestra invidiabile, facevamo un milione di attività sportive all'interno della struttura scuole medie, la stessa scuola elementare, i campi di basket, di tennis, la palestra coparte, eccetera. Lo sport è un momento importante di crescita dei ragazzi e di socialità e quindi di conseguenza bisogna rivalorizzare le nostre strutture, dare un pieno appoggio alle istituzioni scolastiche perché si possano nuovamente tornare ad aprire le porte agli studenti. Quindi la nostra attenzione per le scuole, per le menze soprattutto, sarà assolutamente massima. Un altro settore molto importante, lo è nei programmi di tutti, anche ovviamente nel suo, addirittura lei scrive, che è un elemento imprescindibile per tutti i cittadini, è quello dell'ambiente, che è un tema molto molto caldo a Bova Marina. Sì, l'ambiente è importante, avere un ambiente sano dove poter vivere, dove poter far crescere i nostri figli. Appare urgente, necessario, bonificare nel più breve tempo possibile la nostra discarica e da troppo tempo non si è vociferato su questa bonifica ma poi non si è riusciti mai a bonificarla. Bisogna partire da lì, bisogna praticamente avere un mare pulito, avere un depuratore funzionante, avere un paese pulito, bisogna prestare particolare attenzione al nostro ambiente perché è il luogo in cui viviamo e in cui vogliamo che crescano bene i nostri figli e quindi di conseguenza l'ambiente avrà una priorità massima. Infatti, immediatamente, se i cittadini vorranno, voglio dire, onorarci di questo mandato, intendiamo avviare la differenziata perché non è possibile avere il problema spazzatura nel 2014, soprattutto in estate, soprattutto quando fa caldo e quando il rischio di respirare aria tossica è enorme. Quindi anche internalizzare i servizi, soprattutto quello di raccolta rifiuti. Sì, assolutamente. Oggi il costo dei servizi di raccolta rifiuti è arrivato a delle cifre esorbitanti. Le famiglie non riescono più a sopportare il peso dei tributi ed è possibile assolutamente ridurre l'importo che noi andiamo a pagare alle società esterne per la raccolta e non è assolutamente concepibile andare a pagare intorno a 200.000 euro l'anno per il conferimento in discarica. Noi facendo la raccolta differenziata e internalizzando il servizio, acquistando dei mezzi propri e andando praticamente a rotazione ad assorbire della manodopera locale, noi siamo convinti che riusciremo ad abbassare di molto il costo del servizio e questo tutto a beneficio dei contribuenti, avendo un paese decisamente più pulito. Un paese più pulito, ma parliamo di internalizzare i servizi in un comune in dissesto finanziario, com'è la situazione in questo momento dei conti? Come internalizzare? Nel senso, questi acquisti, questi macchinari che verranno acquistati, come arriveranno a Bova Marina? Allora, se noi pensiamo che il costo totale della spazzatura e dei rifiuti di solito urbano è di 600.000 euro l'anno in questo momento, se noi ci facciamo due conti, notiamo che facendo la differenziata risparmiamo 200.000 euro del conferimento in discarica, dopodiché praticamente gli ulteriori 400.000 euro, che noi bene o male andiamo a pagare una società esterna per la raccolta, invece possiamo comprare dei mezzi e andare, assumendo a rotazione del personale, andare a spendere intorno a 200.000-250.000 euro l'anno. Quindi, di conseguenza, quello che ci viene è un costo di 600.000 euro l'anno si riduce a 300.000 euro, nonostante vengono ad essere acquistati dei mezzi pagati in più periodi. Poi, col discorso della differenziata, sicuramente bisogna creare un'area vera un'area ecologica in cui verranno inseriti dei container, dove verranno conferiti plastica, vetro, carta, eccetera, e quei rifiuti verranno a essere venduti a delle società interessate a raccogliere sul territorio questa carta, eccetera, e addirittura si potrebbe pensare di pagare i cittadini per farsi portare direttamente in discarica, ipotizziamo dei cartoni, no? Se noi andiamo a farci portare una busta di cartoni, la pesiamo, e poi magari si potrebbe, in una tessera magnetica, inserire l'importo che andrebbe scomputato dal costo della spazzatura annuale, o a fine mese si potrebbe chiedere un rimborso, eccetera. Ci sono i modi perché sia economico e sia competitivo, voglio dire, rispetto a come viene gestito adesso il servizio. Sicuramente non c'è altra via, è l'unico modo per poter avere un ambiente più pulito e per far pagare di meno i cittadini. Ne siamo convinti. Ambiente che va a braccetto necessariamente con il turismo. Senza un ambiente migliore il turismo non potrà mai tornare ad esistere a Bova Marina. Quindi quali provvedimenti, oltre ovviamente a quelli legati all'ambiente che sono indispensabili, quali provvedimenti per rilanciare il turismo a Bova Marina? Allora, qui c'è una difficoltà di base di avere le strutture. Mi spiego meglio, c'è un lungomare che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita per il turista perché un paese di mare dovrebbe accogliere il turista soprattutto in spiaggia e invece praticamente si ritrova ad avere una spiaggia devastata dalle mareggiate. E quindi di conseguenza bisogna puntare immediatamente, andare a creare quelle strutture quali praticamente i depuratori, quali il lungomare, quali una serie infinite, insomma l'illuminazione, eccetera. una serie di infinite di strutture, intanto esistono una miriade, una decina di lavori pubblici che non sono stati dati in appalto come per i massi, eccetera, la seconda e terza tranche dei massi, eccetera, dei frangifrutti. Bisogna immediatamente andare a realizzare tutte queste strutture perché Bova Marina possa nuovamente essere quell'immagine che possa attrarre il turista, che possa far sì che il turista che viene a Bova Marina possa rimanere. Un'altra delle soluzioni per il rilancio del turismo che lei ha presentato nel corso dei suoi comizi elettorali è la realizzazione del porto turistico. Porto che però è costituito anche dall'attuale molo sotto la rocca del capo che è stato dichiarato addirittura ecomostro e ha ricevuto un finanziamento per la sua demolizione. Quindi come si farà? Si dovrà provvedere ad un nuovo progetto? Si farà sempre lì? Allora, io parto da lontano. Racconto questa cosa perché, insomma, per capire un attimo da dove nasce l'idea del porto. Ero bambina, molto spesso andavo in Liguria, che ho dei parenti, insomma, Rapallo, Genova, Santa Margherita, Portofino soprattutto, e c'era un piccolo porto d'attracco dove ci sono posteggiati centinaia di yacht. E allora ero piccola e mi immaginavo Bova Marina con la stessa immagine, la stessa forma di commercio, lo stesso afflusso di persone, perché poi noi siamo il cuore del Mediterraneo, abbiamo un punto strategico rispetto a qualunque altro posto d'Italia e del Mediterraneo, no? Quindi di conseguenza qui c'è un'insenatura naturale. Adesso il progetto nasce dall'idea di fare un piccolo porticciolo naturalmente di porto, insomma, turistico. Nessuno vuole stravolgere quello che la natura ci ha dato. Però non possiamo permetterci di perdere centinaia di imbarcazioni che magari si fermerebbero a Bova Marina, farebbero i loro acquisti, passerebbero magari due giorni, tre giorni, cinque giorni e poi andrebbero via. E quindi è necessario per andare a rilanciare la nostra economia, avere anche noi il nostro porticciolo, perché nessun paese di mare può permettersi l'uso di non avere un porto. E quindi porto che se si farà potrà anche essere una soluzione per i tanti pescatori che ancora sulle spiagge di Bova Marina svolgono la loro attività. Per molti dicono anche se si fa il porto noi non andiamo, li rimaniamo sulle spiagge. Queste sono delle... Diciamo... È normale che i pescatori debbano continuare a fare le loro attività, ci mancherebbe pure. Vediamo un attimo, insomma, di gestire una situazione assieme alle altre. E la cosa più importante, secondo me, è cercare di, con una serie di azioni, di portare economia a questo paese, di andare a fare un nuovo tessuto, a creare un nuovo tessuto economico, perché altrimenti l'occupazione che noi chiediamo per i giovani, che le mamme implorano, eccetera, non arriverà mai da nessuna parte. E quindi, di conseguenza, dobbiamo tenere conto dell'ambiente, dobbiamo rispettare, voglio dire, tutto quello che la natura ci ha dato, però dobbiamo creare quelle strutture che ci possano portare, turisti, che ci possano portare quel turismo che può spendere. Quindi, di conseguenza, terremo conto dell'esigenza dei pescatori, però c'è l'esigenza di creare un nuovo turismo. Un turismo, voglio dire, culturale, religioso, per quello che è la zona Sian Pasquale, ma anche un turismo economicamente vantaggioso per tutti coloro che, praticamente, nel settore commerciale, artigianale, eccetera, di cui vivono, diciamo. Quindi, rilancio del turismo che passa anche, perché ha toccato un tasto molto interessante, dal parco archeologico, che necessita di un grande rilancio, perché per noi è un secondo biglietto da visita. Il primo dovrebbe essere il lungomare, che però ancora non c'è. Sì, allora, il parco archeologico è come se noi avessimo un tesoro, in questo momento poco valorizzato. Chi arriva al parco deve arrivare al parco, deve visitarlo, ci deve essere un turismo particolare, anche andare a fare delle convenzioni con le università, con le scuole di ogni ordine grado, e anche e soprattutto con le delegazioni di ebrei, voglio dire, in Italia, perché la sinagoga è un qualcosa di unico che abbiamo e che forse ci siamo anche dimenticati da bovesi di avere. Adesso, in questo momento, è gestito dalla provincia, voglio dire, sembrerebbe che stanno iniziando ad arrivare i turisti, ma questi turisti che arrivano non devono praticamente visitare il parco e andare altrove, andare a Gerage, andare a Bova Superior, nulla contro Gerage o Bova, diciamo, però arrivano alle porte di Bova, Bova Marina e dovrebbero restare qua. Quindi, in sinergia, la nostra area di San Pasquale, assieme a quella, voglio dire, di Bova, quindi il mare pulito, le strutture esistenti, un arenile pieno, voglio dire, di movimento, dovrebbe riuscire a risvegliare questo paese da tanto tempo ormai in letargo. Insomma, fare sistema, veramente, quindi portare il turista che viene al parco archeologico, visitare la città di Bova Marina, magari fare anche degli acquisti. Parliamo un attimo di coesione sociale. Che iniziative prenderete in merito? Anche perché il collante di un paese è veramente lo stare insieme, c'è bisogno di ritrovare, dicono in molti, l'essere, il sentirsi i cittadini bovesi, quindi riuscire di nuovo in mezzo alle piazze, per le strade, per i marciapiedi, riappropriarsi da parte dei cittadini della città. Sì, i cittadini devono riappropriarsi della loro città, devono praticamente vedere nell'ente, nel comune, nel municipio, la loro casa, nelle strutture esistenti sul territorio, dei punti di riferimento. Intanto voglio dire le porte del comune, delle case comunali, insomma, non solo del comune, ma proprio palestra, mercato coperto, eccetera, devono essere a parte e servire da specchietto, diciamo, per tutte le associazioni, eccetera, del nostro territorio. Non è possibile che un'associazione debba, voglio dire, andare altrove, a poter svolgere la propria attività, anche perché praticamente noi siamo un paese che abbiamo grosse difficoltà economiche e assieme alle associazioni si potrebbe riuscire a lavorare bene, in modo tale da lavorare in sinergia su molti servizi che possono essere praticamente un servizio, per esempio, di accoglimento dei turisti, mi viene, ma anche un servizio davanti alle scuole, vari, intesere proprio questi rapporti di sostegno l'uno con l'altra. Però le nostre palestre, per esempio, non possono essere chiuse e mandare i nostri ragazzi magari a giocare fuori. Tutto quello che è il patrimonio strutturale dell'ente deve essere utilizzato dai suoi cittadini, quindi i cittadini devono essere i massimi fruitori delle strutture esistenti. Cittadini che anche per queste strutture pagano una tassazione non indifferente, e parliamo per un attimo di tasse, partendo da un'accusa che le viene mossa dagli schieramenti e a lei avversi di aver alzato molto i toni sul discorso tasse, comunque anche in generale in campagna elettorale. Però lei della tassazione in particolare fa un punto molto importante del suo programma. Sì, io credo che non è possibile che questa tassazione così elevata vada a pesare solo sulle tasche dei cittadini. Sappiamo che quando vi è un dissesso per molti anni gli importi vanno al massimo, le aliquote vanno al massimo. Però per quello che per esempio è un aliquota IRPEF non si può fare niente. Per quello che sono i servizi essenziali, quali praticamente la raccolta spazzatura, raccolta rifiuti solidi urbani, quello che è il servizio idrico, possiamo fare molto. Allora dobbiamo assolutamente cercare di ridurre l'importo di questi servizi per renderli intanto più efficienti e poi perché praticamente i cittadini paghino di mano. L'importo per esempio adesso che noi abbiamo dell'acqua, del servizio idrico che andiamo a pagare annualmente è intorno a 500.000 euro. Adesso acquistiamo persino l'acqua dalla Sorical. Ora mi chiedo io, per molto tempo c'erano dei pozzi nel comune. Questi pozzi comunali potrebbero essere benissimo ripristinati per evitare di andare a comprarci l'acqua dalla Sorical quando praticamente giù nel terreno le falde acquifere sono poco profanfonde. E quindi fare questi investimenti un anno, due anni, tre anni ma poi utilizzarli per tanto tempo in modo tale che poi il costo sarebbe solo dell'elettricità per tirare su con le pompe voglio dire quest'acqua. Ci sono determinate cose che poi debbono essere fatte obbligatoriamente per cercare di far pesare molto meno il dissesto ai cittadini per far entrare dei soldi straordinari diciamo alle casse del comune. Per esempio una cosa di queste potrebbe essere fatta la vendita dei beni non direttamente pertinenti alle funzioni dell'ente. Per esempio mi vengono in mente quei terreni che noi abbiamo di incomproprietà con il comune di Africa, con il comune di Bova che potrebbero essere venduti oppure per esempio si potrebbe fare su alcuni di questi per esempio la martellata oppure praticamente fare per quella fascia antistante lungomare utilizzata già voglio dire dai cittadini eccetera la sdemanializzazione. Cioè ci sono tante cose che potrebbero portare soldi al comune e quindi incidere un po' di questo naturalmente dico un certo col commissario straordinario eccetera il liquidatore eccetera naturalmente però ci sono tante cose che potremmo fare per far pesare meno questo dissesto intanto economichizzare sui servizi. Siamo alle battute finali le faccio solo due domande la prima è riguardo la lista una lista di molti giovani disoccupati comunque volti nuovi che non sono mai entrati in consiglio comunale anche lei non è mai entrata in consiglio comunale mancano forse un pochino le professionalità cioè come si lavorerà qualora verrete chiamati a guidare il comune all'interno come assessorati comunque come amministrazione come ordinaria amministrazione Sì, allora mancano forse i personaggi noti della politica bovese nella lista e quindi di conseguenza mancano quei nomi che garantiscono tipo i 100 voti 150 voti a persona in realtà però per amministrare un ente bisogna fare degli atti amministrativi fatti con criteri con economicità, con efficienza Intendo ci si rivolgerà magari anche a delle professionalità esterne anche per delle consulenze che vorranno comunque farlo gratuitamente per il comune di Bova Marina Assolutamente intanto praticamente si dice si è detto che noi siamo una squadra di ragazzi di giovani eccetera e sembrerebbe senza esperienza in realtà all'interno dell'ente insomma ci stanno due avvocati che saranno molto importanti per tutti quegli atti di straordinaria amministrazione che intenderemo adottare anche verificare soprattutto su un condono tributario su quello che può essere delle transazioni fatte nei confronti dei cittadini eccetera per le imposte eccetera e poi praticamente c'è una laureanda in agraria per quello che concerne voglio dire la vendita dei terreni che avevo anticipato per quello che può essere la martellata eccetera e poi sicuramente noi abbiamo intenzione di andare a potenziare a creare un ufficio ad hoc per ottenere i finanziamenti i fondi comunitari perché sarebbe impossibile oggi pensare di andare a gestire un comune senza i fondi comunitari anche perché sono delle somme che sono lì a disposizione che tornano costantemente indietro in Europa e che poi nessun comune della Calabria li vada a sfruttare e poi non abbiamo le strutture cioè non li si chiede non si usufruisce di questa grossa possibilità che abbiamo e poi i fondi tornano indietro invece i cittadini vanno a vivere in un paese privo di struttura quindi è naturale che si intenderà a potenziare un ufficio per insomma sopperire a questi fondi comunitari e utilizzeremo prettamente tecnici di Bova Marina che ci possano indirizzare aiutare in questo senso quindi come promesso ultima domanda siamo proprio alla fine un appello ai cittadini perché il cittadino bovese dovrebbe votare la lista numero uno cambiare si può e lei come candidata a sindaco Carmela Faenza perché il nostro sogno è vedere una Bova Marina finalmente vivibile il nostro sogno diventa arrivare un paese turistico o un paese che è il gioiello deve diventare il gioiello del Mediterraneo noi non siamo politici ma siamo delle persone dei rappresentanti dei cittadini che hanno sentito impellente l'esigenza di scendere in prima persona per fare una politica nuova per creare un progetto che vada a cambiare il volto di questo paese che faccia diventare bello vivibile Bova Marina quindi noi speriamo che questo nostro progetto sia il progetto dei cittadini diventa il progetto dei cittadini e che quindi votino la lista numero uno con Carmela Faenza sindaco cambiare si può grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.